Nei mesi scorsi lei anche in Europa aveva portato al tavolo di Bruxelles il problema dell'aeroporto d'Abruzzo, suscitando però le aspre reazioni della Giunta d'Alfonso. Ma sì, alla fine allora la Giunta d'Alfonso se la deve prendere anche con la Corte Costituzionale, con la Corte dei Conti e con tutte le istituzioni che hanno palesemente detto che i loro comportamenti sono illeciti e non rispettosi delle normative né italiane né europee, perché se voi andate a leggere il contenuto di quello che dice la Corte dei Conti è esattamente il contenuto delle mie interrogazioni che ho fatto a gennaio. Avere per reazione da parte del Presidente e di tutto il management anche dell'aeroporto una reazione così violenta nei miei confronti quando io ho semplicemente denunciato un illecito, anzi degli illeciti perpetrati per anni, questo significa che è una cosa sola, che quegli illeciti vogliono essere perpetrati, che anzi si va in Europa a cercare di giustificare quegli illeciti mascherandoli come atteggiamenti a favore dei cittadini abruzzesi e dell'Abruzzo. Le problematiche dell'aeroporto d'Abruzzo, il futuro dello scalo aeroportuale d'Abruzzo di Pescara, qual è la ricetta del Movimento 5 Stelle? Perché va male lo scalo pescarese? Perché va male il turismo in Abruzzo, quindi se non si mette mano a generare dei flussi turistici seri in Abruzzo, che siano intermodali, che comprendano percorsi e che siano pubblicizzati a dovere nel resto d'Europa, noi questo genere di infrastruttura lo porteremo sempre a perdere, perché faremo solo da transito e non porteremo reddito all'Abruzzo.